Un nuovo edificio scolastico nella zona del campo sportivo San Martino, due piani di altezza e spazi per 150 bambini e bambine tra sello nido, scuola materna e centro famiglia. Una costruzione necessaria secondo il comune di Cogorno perché l'offerta di posti scolastici è al momento insufficiente. Una costruzione troppo voluminosa secondo la soprintendenza ai beni culturali che ha dato recentemente un padere negativo. La nuova scuola andrebbe parzialmente a limitare la vista sulla Basilica dei Fieschi, zona sottoposta a vincolo paesistico. Il comune ha risposto con alcune integrazioni al progetto e attende una risposta anche perché i tempi delle opere finanziate dal PNRR hanno scadenze precise e da rispettare. Nello specifico si andrebbe a costruire un marciapiede che passa nel prospetto nord della struttura, libero da intralci alla visuale. Ricordiamo che il progetto è finanziato dal cosiddetto piano asili del piano nazionale di riprese e resilienza che eroga fondi ai comuni per la costruzione di asili nido e scuole dell'infanzia. In tutta Italia parliamo di 4,6 miliardi per 1857 nuovi asili nido e 333 scuole materne. Il problema più frequente per i comuni italiani che hanno aderito al bando è quello delle scadenze, difficile da rispettare per le modifiche portate ai progetti in corso d'opera per l'aumento dei costi delle materie prime che rischiano di non far rispettare la prossima scadenza del 31 maggio, entro cui devono essere affidati i lavori. Questo non è il caso di Cogorno, la scuola è finanziata con 3 milioni dal PNRR, 140 mila euro dal fondo statale per le offerte di feribili e circa 350 mila euro di fondi comunali. Il compito di occuparsi della gara è stato affidato all'agenzia governativa Invitalia che entro giugno comunicherà l'azienda giudicataria. Resta però da sciogliere il nodo legato al parere negativo della soprintendenza. Il comune attende di sapere se le integrazioni presentate siano sufficienti.